Si rinnova la collaborazione del Comune di Ravenna al progetto regionale Mensa, che sabato 28 settembre alle ore 17.05 in Biblioteca Classense verrà declinato sul tema dantesco e sull'umanesimo al futuro inserito nel ricoprogramma di Viva Dante. L'evento di sabato affronterà con lezioni e performance attoriali il tema della memoria, a partire da Dante fino ad autori contemporanei, e vedrà la presenza di Paolo Fabri con chiave di senso per gli segni bui, dal canto secondo del paradiso di Dante e Roberto Celada ballanti con eredità letterarie e spirituali al futuro. Mensa a Ravenna, un pensiero ospitale, il cosmopolitismo come si svilupperanno? La nostra idea su Ravenna è quella di tenere il legame con i principi dell'umanesimo e Dante, però aprire questi principi che sono comunque universali e fondamentali anche del nuovo umanesimo per creare delle sinergie di pensiero tra grande Dante e altri pensatori e portarlo anche all'oggi, insomma, riuscire ad arrivare anche all'oggi. Tanto che i nomi che abbiamo proposto per questa edizione, il professor Paolo Fabri e Celada Ballanti, entrambi cercheranno, dinamizzando il pensiero di Dante, chiedersi allora quale valore ha per la cultura oggi, che destino ha, che mission ha la cultura oggi e il resto invece per quanto riguarda Celada Ballanti, fondamentale il tema della pace filosofica e la pace religiosa nell'oggi, il significato nell'oggi partendo appunto da Dante, dinamizzato con un grande pensatore tedesco che è appunto Lessing. Un incontro per la cittadinanza, per i studenti? Studenti per la città, perché una nostra missione è proprio quella sia della formazione delle menti, perché mens significa menti ospitale, sia anche potenziare la capacità al pensiero critico e quindi offrendo queste proposte di alta cultura gratuite, che tutti possono avere questi strumenti di analisi anche della realtà sociale che stiamo vivendo, dell'attorno a noi. Sarà presente Paolo Fabri, semiologo prima della scomparsa di Eco, considerato secondo e oggi è un grande onore averlo. Un grandissimo personaggio, adesso a parte la battuta su Eco, è uno dei più grandi semiologi europei e è un pensatore che ha uno sguardo molto particolare anche sull'attualità e quindi oggi forse abbiamo veramente bisogno di sguardi particolari per un'attualità che è sempre più difficile da capire e i cui segni appunto quelli che studiano i semiologici sono così insomma difficili da interpretare.